Un cordiale saluto e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino in diretta alle 7.30 per sfogliare tutti insieme i giornali, lo faremo tra pochissimo con i titoli delle notizie più importanti. Come sempre prima diamo uno sguardo al calendario, poi alle previsioni del tempo, anche perché oggi il tempo cambia, oggi pioverà almeno stando alle previsioni. Cominciamo però dal santo di oggi. La Chiesa Cattolica oggi ricorda i santi Nazario e Celso, sono martiri. Il sole è sorto le 5.52 e tramonterà le 20.37. Avremo cielo parzialmente nuvoloso, in particolare durante le ore centrali della giornata, quando si potranno verificare addensamenti comuniformi che porteranno rovesci sparsi, in particolare al mattino fino al pomeriggio in esaurimento nel corso della giornata e non si escludono fenomeni a carattere anche temporalesco. Vedete, dalla grafica, gli esperti della protezione civile delle Marche hanno localizzato il maltempo, soprattutto sulla costa anconetana, nell'entroterra urbinate e sui monti sibillini. Le temperature sono senza variazioni di rilievo. Per la giornata di venerdì 29 il tempo invece migliora. Eccolo qua, il sole che torna a splendere sulla costa, con temperature stazionario addirittura in lieve aumento. Per sabato cielo sereno su tutta la costa adriatica, con temperature ancora in ulteriore aumento. Un solido anticiclone di origine africana continuerà a favorire tempo stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento, perché arriva appunto questo vento dall'Africa e quindi probabilmente anche il garbino che ci farà sentire questo vento caldo come se fosse un phone acceso. Andiamo adesso sui giornali, allora con il nostro touchscreen, subito il Corriere Adriatico che in apertura pubblica la notizia che riguarda la viabilità. Ostaggi del traffico, la viabilità è un caos a Pesero, il comune adesso ci ripensa, San Decenzio sì al doppio senso di marcia. Mentre la vita è in diretta, il programma di Rai 1 oggi sarà a Fano per raccontare la storia di Penni, che è questa cagnolina che ha abbaiato al ladro o ai ladri che sono entrati in casa a Sant'Orso l'altro giorno, e che per tutta risposta invece ha ricevuto un brutto trattamento, perché è stata presa e scaraventata di sotto dal terrazzo, dalla terrazza di casa un volo dal primo piano. Oggi questa cagnolina che ha scacciato i ladri appunto, i proprietari di questa cagnolina racconteranno tutto al programma della vita in diretta della Rai. Aset si vota la fusione, ecco tutti i risparmi, le divisioni attraverso la maggioranza sullo sfondo, c'è l'unificazione provinciale dei servizi, questa è la prima pagina, quella di Fano invece apre con il tema del volume alto per i concerti. Tutto nasce dall'annullamento domenica e sera di un concerto allo Sport Park, era l'ultima di una serie di serate organizzate allo Sport Park, chi conosce la zona sa che è un luogo di ritrovo, un grande centro dove si può giocare a bowling, si può mangiare e quant'altro, però tutto attorno ci sono, anche se siamo a due passi dal mare, ci sono le abitazioni. I residenti si sono lamentati alla sesta sera di musica, anche se gli organizzatori hanno detto, e ci sono anche le testimonianze, che a mezzanotte, mezzanotte un quarto, tutte le sere si interrompeva e quindi non recava disturbo a nessuno, però non è bastato, i residenti hanno fatto esposti, hanno protestato, eccetera, e quindi l'ultimo giorno è arrivato l'ARPAM che ha detto qui bisogna abbassare i decibel, parliamo di abbassare il volume e da 70 era stato portato a 65, però capite da soli che c'è poco da fare con 65, c'è poco da suonare o da cantare, non sentirebbe quasi nessuno, perché? E qui andiamo sul titolo di oggi del Corriere, perché per De Gregori, che ha suonato in concerto l'altro giorno in piazza, la deroga era addirittura a 90 decibel, quindi 20 decibel di differenza non sono pochi. A Sassonio invece per la festa della birra il tetto, come dicevo, era a 70, la disparità di scelta fa comunque adesso discutere. Luciano Benini, che è il responsabile dell'ARPAM, dice che l'anomalia era il permesso concesso per 6 ore. Delocalizzare invece in periferia questi eventi, quindi spostarli dove non ci sono molte case, dove non c'è, dice l'indotto. Santorelli contraddice l'assessore Cecchietelli e lancia la scura sull'animazione. Dunque Santorelli replica l'assessore Carla Cecchietelli, una premessa doverosa consiste nel constatare tramite giornali e social media quanto la città ricordi abbia apprezzato l'impostazione delle feste dell'intrattenimento data gli anni passati dalla precedente amministrazione, che lo ricordiamo era di centrodestra, per 10 anni è stato di centrodestra, allora c'erano delle iniziative, allora Santorelli faceva l'organizzatore in quanto assessore agli eventi, al turismo e quant'altro. La fusione tra Aset e Spai e Aset Holding è la fusione della discordia, questa operazione Aset con i risparmi per questa unificazione dei servizi con le reti, oggi in Consiglio Comunale l'atto di indirizzo per incorporare l'azienda Holding. Poi ha fatto discutere, ha indignato più di una persona la notizia che un volontario qui in un quartiere di Fano che per tanti anni ha tenuto il giardino pubblico in ordine, ha fatto discutere il fatto che sia stato multato. Ebbene, adesso la notizia di oggi è che l'assessore vuole parlarci, c'è imbarazzo in comune e Progetto Fano interroga. La giornale, lo andiamo a vedere, di spalla qui, volontario multato, l'assessore adesso appunto vuole parlarci. E eccolo qui Valerio Biagioni con la multa, il verbale presa per aver potato due tigli, che la multa era di 500 euro, poi come abbiamo già ricordato ieri è stata ridotta a 100 e qualcosa e poi è stata pagata da un'associazione del posto. Allora dicevamo di Penny questa cagnolina, Penny la vita in diretta, oggi arrivano le telecamere, il coraggio della cagnolina appassiona la città, turbate le due bimbe della famiglia. La signora Rossella tiene in braccio la cagnolina durante dolorante, dopo l'impresa. L'animale ha fatto desistere i ladri entrati in casa che però l'hanno lanciata dal terrazzo. Due ragazzini invece finiscono in ospedale per una intossicazione, avevano mangiato pesce crudo, negativi controlli eseguiti nel ristorante. I giovani umbri si trovavano in vacanza a Fano e avevano deciso di recarsi a cena in un ristorante dove in due hanno consumato pesce sia crudo che fritto, mentre il terzo ha scelto di mangiare la carne. La cessione non è negoziabile, Azimut gela i lavoratori a Roma, fumata nera al primo incontro, ieri c'è stato questo appuntamento nella capitale, ad agosto c'è un altro tavolo anche con la Carboline che è l'azienda che prenderà questo ramo d'azienda dell'Azimut. Benetti, dipendenti, sono circa 90 persone e quindi 90 famiglie, hanno manifestato con bandiere e striscioni davanti al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Il tifo invece per l'alma non ha confini. Memorial Bronco, Bronco è il soprannome di un ultra, di un tifoso del Fano che purtroppo non c'è più, è scomparso. Il Memorial, dicevo, Bronco, Caputmundi, 12 squadre in campo allo Sport Park, in arrivo la delegazione dell'Udinese. Dalla Valle del Cesano sfondano un muro per rubare delle sigarette. I ladri che hanno messo a segno un colpo nel bar Tabacchia e Nicaffè sulla Pergolese, sono fuggiti con 60 stecche, il vigilante ha dato l'allarme, i carabinieri hanno trovato il furgone che tra l'altro è stato rubato ad Ancona e col motore ancora caldo nel piazzale dell'azienda Cereal di Cesano e hanno abbandonato tutto per cui il colpo possiamo dire che è fallito, è andato a segno solo per i danni che ha provocato. Fontana Forni celebra 70 anni di vita, i titolari il premio Marchigiani dell'anno, festa con i dipendenti, siamo a San Lorenzo in campo. Ma che risparmi? La giunta ci costerà 120 mila euro in più. Nei giorni scorsi il sindaco, il neosindaco del comune di Mondolfo, con i suoi assessori, avevano annunciato, il sindaco aveva annunciato il taglio del 10% per finalità pubbliche dello stipendio, ma tre membri su cinque non lavorano. Il segretario del comitato salute fulmina il sindaco Barbieri, assessori con indennità doppia. Apriamo la pagina di Senigallia, la ZTL, la zona traffico limitato, rinvio a metà settembre, la complanare può attendere, mentre sull'altra pagina di Senigallia la cronaca ci riporta di un fatto in cui un infermiere è stato preso a pugni, padre e figlio accendono la tensione al pronto soccorso, finto svenimento, partono colpi alla bocca e al braccio, raccolte le testimonianze dei presenti. E ancora da Fossombrone, Forum Semproni, tesoro unico, scoperti templi, edifici e piazze. Il professor May dice unico parco archeologico provinciale che però merita di essere valorizzato. E adesso la pagina di Urbino per chiudere il Corriere Adriatico, dove si parla ancora della Fano Urbino, questa vecchia arteria ferroviaria, i binari sono ancora lì, l'associazione Ferrovie Valmetauro, così si chiama, esulta per le parole probinari del ministro Franceschini, ora esultano e dicono anche il ministro Franceschini è con noi, perché evidentemente ha detto che secondo lui questa tratta della Fano Urbino, che è ormai chiusa da tantissimi anni, va ripristinata. Apriamo adesso invece il resto del Carlino, la pagina di Fano, sui gioielli fanesi che andranno al Festival di Cannes. È un festival, certamente non era come quello che si teneva qui una volta, il Fano Yacht Festival, una vetrina per la produzione locale dei piccoli e grandi cantieri navali, che ora tra l'altro non c'è più, perché la nautica di Porto, come scrive il giornale giustamente, la nautica di Porto fanese si è ridotta ai minimi termini, poi la recente vicenda Azimut Benetti insomma insegna, ce lo dimostra. Sono pochi i cantieri fanesi che hanno partecipato alle grandi fiere internazionali, però ce n'è una appunto che ci sarà. Ecco chi sta rilanciando il settore in un periodo di crisi, nuovi prototipi per Filippetti, Yacht di Mondolfo e Ferretti, che andranno appunto a Canna. Dopo la vicenda terribile del prete sgozzato durante la messa, il Carlino questa mattina ha intervistato un sacerdote, Don Cernuschi, parroco di Candelara, il sacerdote dice e risponde, io non ho paura con i musulmani, noi giochiamo a calcio. Qui vince l'integrazione, non escludiamo nessuno, anche le ragazze con il velo prima non venivano qui, adesso sì, da noi il ruolo della parrocchia è quello di includere, di far entrare, non quello di far uscire. Non abbiamo comunque avuto segnali preoccupanti da nessuna parte, la strategia è quella della pace, più che allarmismi creiamo iniziative come lo sport, mi fanno paura di più. Certi banditi di quelli che non usano le mezze misure per entrare in casa e a volte anche picchiar giù duro. Andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino, la storia di due fanesi, angeli dei migranti, si chiamano Emanuele e Tiana, sono medico e infermiera, che hanno aperto un ospedale, sono in prima linea tra Libia e Italia, impegnati a salvare i feriti di guerra e i profughi che scelgono la vita del mare per fuggire da un destino atroce. Si sono conosciuti in zona di guerra, in Afghanistan, e continuano a spendersi per salvare queste vite, per portare sollievo, aiuto. E quando abbiamo, dicono loro, raccolto la bimba in mare, era scioccata, poi finalmente si è lasciata andare ad un sorriso. Poi la polemica sul turismo a Fano, spesi soldi per seguire un target che non ci appartiene. Interviene Carbone, in rappresentanza dei giovani di Forza Italia, che non condividono le scelte dell'amministrazione sul turismo. Qual è questo target che non ci appartiene? Il target che non ci appartiene è quello della Notte Rosa, dove sono stati spesi 60 mila euro per organizzare e seguire una moda che non è marchigiana, è una cosa nata in Romagna, che si è volutamente, forzatamente far allungare fino a Senigallia o giù di lì. Ecco, non ci appartiene. Forse quei soldi potevano essere spesi in altro modo. E Forza Italia cita, per esempio, come evento clou dell'estate, la Fano dei Cesari. Masini, Marco Masini, ospite d'onore, questa sera il sindaco lo premia. Stasera c'è questo concerto insieme all'amico Luca Vagnini all'Arena BCC, di scena all'Invisibile, lo show del cantaottore fanese, che presenterà anche i brani del suo ultimo CD. Due fratelli ed un romanzo giallo, invece, a pagina 16 del Carlino, sono Francesco e Giovanni Belfiori, figli di un poliziotto, che creano il commissario Bacci. E come sempre, chiudiamo con l'immagine dei maturandi, quelli che hanno preso 100. Il linguistico completa il record del Mamiani. Altri 36 studenti prendono 100. Sette sono quelli con la lode. E con questo chiudiamo qui la rassegna stampa. Vi ricordo che oggi seguiremo ancora la giornata mondiale della gioventù, che si sta svolgendo con il Papa a Cracovia. Gli appuntamenti sono alle 9.30, un momento di preghiera nella Cappella della Madonna Nera, poi alle 10.20 la messa per il 1050 anniversario del Battesimo della Polonia, e poi oggi pomeriggio alle 5, sempre a Cracovia, la cerimonia di accoglienza dei giovani. È tutto, ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.